daje ok giochiamo contro max allegri già bisogna vincere di 100 musetto davanti il muso fotografia corto muso semplice che ci gioca e 4 e siccome è in chat non possiamo svelare tutti i miei pensieri quindi su cavallo f3 giocherò cavallo c6 una delle mosse principali su d4 si mangia ormai sono cose che chi segue un po il canale ha visto e rivisto grande stefank cavallo f6 questa dovrebbe essere forse la mossa più giocata perché il nero si mantiene flessibile qua può ancora giocare il dragone la rouser la variante dei quattro cavalli due cavalli non so come si chiami e 6 facciamo la variante del dragone con g6 più precisamente questo è il dragone accelerato dragone dragone accelerato sono diverse in quanto il nero non ha ancora fatto di 6 quindi vuole tenersi in qualche variante la possibilità di spingere direttamente in d5 con questo pedone non si può fare sempre ma ok sono piccole piccole differenze alfiere 2 alfiere 2 è una mossa legittima non il massimo dell'ambizione adesso il nero non avrà particolari problemi cavallo per c6 b per c6 qua ok la mossa più interessante non sono sicuro che sia la migliore ma e 5 poteva essere interessante no perché non è chiaro dove vada con questo cavallo ciao max non è chiaro dove vado questo cavallo perché in g8 è brutto forse posso anche trovare in g8 per la sua e5 forse avrei sacrificato il pedone con questa variante magari dopo torre b8 e ok il bianco il ha un discreto compenso in cambio del pedone quindi non è non è traumatica questo i5 ciao distinti saluti distinti saluti a lei ok vedete che ad esempio in questa variante abbiamo la possibilità di giocare di 5 senza aver perso un tempo giocando di 6 e poi di 5 ma abbiamo l'opportunità di farlo in un tempo solo quindi l'accogliamo al volo allora simone ammo ne approfitto te lo dico a te voglio anche comunicarlo ai nostri amici youtube se mai questo video sarà caricato su youtube parteci però un torneo dal 17 al 19 febbraio a tivoli penso in provincia di roma non ne sono sicuro ma non vorrei fare la la marchetta fallita come al torneo di grado quando ho detto che grado stava in provincia di trieste errore incredibile e imperdonabile grado in provincia di gorizia ho scoperto quindi male quindi vabbè trovate trovate le informazioni per il torneo di tivoli su il sito della federazione scacchistica italiana se qualcuno vuole venire a fare un saluto cavallo a4 cavallo a4 è una mossa che ci sta cavallo in c5 poi libera il pedone c4 perché no però perde un po di grip al centro forse posso giocare 5 qui prendendomi tutto il centro della scacchiera grazie mille a umberto lo smile a official official mi raccomando e bartolo cavallo c5 spostiamo l'alfiere in c6 questo è un alfiere prezioso posizione molto aperta si simone ho visto ho visto ma troppo lungo come torneo non penso di giocarlo può essere ma non penso alfiere c6 alfiere di 2 è un po strana cosa vuole fare con questo alfiere non si capisce bene ora il mio centro è libero di avanzare e schiacciare per quanto possibile i pezzi del bianco qua posso giocare e4 guadagnando un tempo e poi anche d4 pedoni così avanzati mi danno un vantaggio abbastanza tangibile proprio di spazio un sacco di mosse disponibili donna d5 torre 8 torre c8 torre b8 tutto molto confortevole torre 8 ci togliamo da eventuali problemi forse non era neanche strettamente necessario ma è una mossa naturale quindi la facciamo alfiere c4 quindi il bianco sta cercando di approfittare di questi di questo spazio diciamo lasciato da i miei pedoni che hanno avanzato forse anche un po troppo facciamo alfiere d5 alfiere d5 forse non è il massimo alfiere d5 ciao mister surion allora è una fonte di guadagno per una percentuale di schiacchisti veramente irrisoria questa è la risposta più onesta che si possa dare diciamo che chi va ai tornei di scacchi non ci va per fare soldi sicuramente e ci si va perché gli piace giocare e è il modo è l'unico vero modo con cui è praticamente garantito un un diciamo un miglioramento della del proprio livello scacchistico si può giocare online si possono fare si può studiare tantissimo ma se non si fanno tornei non c'è niente da fare dopo un po' ci si annoia fare tornei è assolutamente necessario per per progredire scacchisticamente orto muso non ha giocato tornei infatti si è preso questo super matto comunque io penso di aver giocato molto molto male questa partita tant'è che qua quando quando ho giocato alfiere d5 effettivamente ok il nero sta ancora un po' meglio madonna per d4 non era una cosa che bisognava permettere chiaramente qua la posizione vedete non so se vedete la barra no non la vedete da meno 4 in questa posizione nonostante la parità materiale il vantaggio è veramente molto molto largo e dopo alfiere d5 da meno 1.50 quindi una una svista abbastanza plateale va bene va bene poi c'è stato lo zeitonaut di mezzo grazie a tutti quindi un'altra